... se la prezzo il banchino giuda e se la confesso di un po' mancato stai zitta a me guarda pura non c'è dentro al governo un po' di 20 miliardi di partitea su tutti i cittadini mentre il governo è stato un po' di mangiamento di mangiare con le persone che vuole poter stare fuori dalla sala fuori dalla sala per favore per favore fuori dalla sala stiamo cercando di infambiare sto cercando di dirvi che siamo di parte una cazzo di partenza e le persone muoiono muoiono per una cazzo di partenza si mi scusi voglio dire queste cose e ci portano via siamo 5 persone contenti carabinieri